Dopo le ultime polemiche il sindaco di Francavilla al mare Antonio Luciani attacca il Partito Democratico e rilancia dicendo di non volere dimettersi per il bene della città. Ho chiesto più riprese di entrare a far parte di questo partito, per l'ennesima volta mi è stato risposto di no, per l'ennesima volta sono stato ignorato anche dai vertici regionali. A questo punto non resta che una scelta, visto che il Partito Democratico si è messo in minoranza, da oggi sono in minoranza. Io vado avanti senza, per coerenza ho restituito, restituirò la nomina di vicepresidente del Consiglio delle Autonomie Locali, un organismo regionale, nelle mani di Luciano D'Alfonso. Da oggi si va avanti senza il Partito Democratico, io farò a meno del Partito Democratico, il Partito Democratico farà a meno di me e quindi qui a Francavilla si governa senza. Vorrei precisare, perché sia chiaro a tutti i cittadini, che non sono io ad aver tradito il mandato elettorale. Il Partito Democratico che in tutta autonomia ha deciso di non appoggiare più l'azione del mio governo, il mio mandato e quindi va bene, ne prendo atto. Lei aveva anche pensato inizialmente alle dimissioni? Avevo pensato alle dimissioni perché per coerenza sempre ho detto, sono stato eletto con questa coalizione, se non si va avanti con questa coalizione non si va avanti per nulla. Dopodiché gli altri consiglieri di maggioranza mi hanno invitato, mi hanno esortato ad andare avanti perché stiamo comunque facendo bene sul territorio. Molti cittadini mi hanno esortato ad andare avanti. Non vedo perché dovrei dire, visto che questo Partito Democratico io non riconosco perché nei valori del Partito Democratico non mi riconosco, ma qui c'è una questione locale, personalistica e allora farò a meno di loro e andrò avanti.